E' un pazzo tutto ragazzi, io sono Pazzlis, lui è Pazzolino Si, sono Pazzolino Grande Oggi che facciamo, che facciamo finalmente le coop Quindi mettiamo subito un 400 mi piace Eee Seguidemi su Instagram, Pazzolis Quest'estate avrete tanti bei video con noi due Perché ci sono i mondiali e faremo tutti i big match Quasi tutti i giorni video, quindi che figo Iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto perché Se no vi vedete i nuovi video E beh, iniziamo Pazzolini? Si Che ha preso il joystick, va? Si inizia tutto da capo Stiamo bene, andiamo a squadroni Abbiamo scelto io, io ero a Madrid per iniziare questa stagione Ovviamente poi un po' di gioco nei commenti se puoi cammere le squadre Dai, forza, iniziamo queste stagioni Ragazzi, ho sentito una musica stranissima Il nostro obiettivo di Sony 5 Perché comunque due è difficilissimo Difficile, difficile Quando faccio l'onda è difficilissima, forza, forza del coraggio Ah, poi questi sono due, che culo Io sono il rosso e lui è il blu, eh No, 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 quella Bella Bellissimo, vai Vandi, vai Vandi Vai Metti in mezzo Bello No Zitto, zitto 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 Sì È gol È gol È gol È gol Sì Dai ragazzi Dai, noi ce la sconcentriamo Dai, che gioco Che gioco Dai, ce la possiamo fare, ragazzi Oh, quella ce la puoi fare il gioco Non ci ti andai mai in botta Bene, dai, fai il gioco Sì, ok, in botta È vietato andare in botta Sennò il portiere è il gioco Vai Cristiano Vai Cristiano Ah, Cristiano Vai Tutto lui Cristiano Cristiano Vallo Cristiano Sì Sì Cristiano Ander Ander E vai Ander Siamo una squadra fortissima O fortissimi Non lo so se è fortissimo o fortissimi Vabbè, va bene così, caspita Che fortissima, andemi non i due gol Ma che faccio, la fa Butta, 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 butta Sì, sì Quando a che butto No, vai, butta quando a che Butta quando a che Vai Ah Invece c'è un altro c'è Un altro c'è, l'ha visto Sotto, sotto No, vai tu, vai tu Non spero Ci bravo Bra, bello Vabbè, ovviamente vedete due partite a vita Sennò non vediamo più Quindi ogni video ho due partite Mamma mia, che sfiga Cioè, che culo per noi Quelli sono sfigati, vabbè Ok, t'ho visto Uè, affetta, affetta Affetta Cossa Vai No Perché Mettiti di mannare C'è fatto Più congeniali Ci penso io No, no, tira, tira E poi, ecco tu Sì, fai Bella Bella Tira subito E che sfiga E che sfiga Non riesce a segnalo Non riesca Non riesce a segnalo No Aiuto Aiuto, io sto da solo in difesa No Che culetto Bello Avanti Bello Bello Vai, fatti vedere Metto in mezzo, eh T'ho visto, eh T'ho visto, eh T'ho visto Non riesce a segnalo Non riesco a segnalo di Calma, se no, giro bene Se no, giro bene Se no, giro bene Forza, eh Vai Vai, vai T'ho visto Vai bello se vi è piaciuto il tiro mi sto preoccupando va bene va bene tira subito una volta l'ho centrata stavolta una volta l'ho centrata ma che cosa ha fatto l'ho centrata una volta stavolta bollo se raga una volta l'ho centrata stavolta mamma mia una centrata vai io una centrata no vabbè ragazzi mamma mia ragazzi questo non ci segna è abbiatissimo secondo me no che difesa perchè hai fatto sci potere non l'ho fatto sci io non l'ho fatto sci io ho fatto sci perchè tu l'hai detto a me nooo me lo vengono vabbè 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 vabbissimo Grossa oh è troppo forte so so mi corre lo batti tu Lore perchè io non lo so batto io perchè lo batto vianissimo Va bene va bene hitting What is Scheeeeeee noooooh TIumen è finita è finita parte a uno dai bubu bu bubu 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 guarda che cazzo lo è io l'avevo tirata pianissimo Tee tata 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 bellissimo 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 che azione abbiamo fatto che azione ragazzi che azione si faccio sto fallo mamma mia che difesa vai cristiano oh raga sono anche fotti questi avversari oh Leonardo a questo punto segna lui segna tu vai ragazzi io non ci ho capito niente no aspetta ci penso io no no perché sei andato su quello no devi rimanere in avia no fai qualcosa fai qualcosa oh fa non ho fatto come ti imboreggiare come ti imboreggiare ah non è solo l'altro uomo che sennò quello è la pasta che è stata solo ok l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto questa battita te punti imbottantissimi te punti imbottantissimi eh no wow no 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 vabbè non ce ne frega a noi raga eccolo passano non male passano non male passano eh rigore no no eh facci 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 calma 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 è piccolo bella grande fe grande primi dei punti ragazzi primi dei punti pazzi il pazzovino noi ci facciamo un'altra partita poi vedete subito ecco la cosa non sembra una palletta e subito quella seconda partita sì dopo la mia vittoria ci vuole anche la seconda conquistiamo questa divisione 10 subito dai 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 fottissimi raga non vi scordate di scrivere la squadra che dobbiamo usare ok oh conteo 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 un bel matito 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 ma cos'è ma no ok conteo una persona quindi molto ma molto più difficile giocare il 2 conteo 1 perché noi siamo proprio sfantaggiati un 1 è molto più facile però noi i pazzovino siamo fottissimi quindi ce lo possiamo fare no vabbè come stiamo concentrati guarda casimunino va bella passa passa bella da Cristo dove vai oh no ragazzi giù giù no vicino mi sono sbagliato che ansia mamma mia che ci siamo mi sono sbagliato mamma mia vai mario nato mario nato mario nato mario nato fallo levi avanti che goal 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 è bravo sei ragazzi grande vai 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 ığı sry FANFICO Sì, ragazzi.. Dopo non entrava quella partita Si è intratta tutte le volte È pietato non entrare Seeeeee Mamma mia Io faccio il balletto Balletto Ai 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 Ehi Abbu pense ma no 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 Facciamo antico bello ti ho visto ti basta, ti cassa subito non bio, non bio non bio, non bio, vai che basta, che basta bello siiii che abbiamo fatto che abbiamo fatto che abbiamo fatto siiii che raga che ho fatto cioè l'avevo vista fuori raga è guarda guarda ok, ok l'ho visto l'ho visto bale farlo detto che hai fatto no faccio i due eeeh oddio raga no cavolo cavoletti cavoletti no no cavoletti che culo spazza 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 guarda cioè cecchio come devi tu c'è ho fatto tutta la via è bello è rischiato un botto vai vai belle grande cavoletti vai hai visto eccolo avanti a te fai qualcosa riguardi 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 non te lo batte altro io non bene non bene ci provo a zico grazie ma che è sto lag siiii lo stesso no con cerchio io ti vero che ho guardato vediamo un po' questo secondo me sta incazzato è incazzatissimo è quando come sta adabbiato attendo oh oh sta incazzato bello che difesa non è il rigone no 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 vai ci no 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 siamo scongentriati eh sì lo sta congiuntriati lo sta congiuntriati fuh basta e dove vada eh è un altro oddio ok bravo aspetta aspetta vai grossa grossa va bene va bene va bene mi è piaciuto passano bellissimo bello no tira oddio ragazzi ho tirato dalla perchè non bello ma di testa bello oh ah ah è impossibile no che ansia devo farlo no 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 vai muo ah 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 ma guarda 1 4 3 posto vede oggi posso vedere ma guarda tu che culo oddio 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 no 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 mamma mia che rischio passa sopra passa sopra ah ci sei avanti mettici il fisico mettici il fisico no no lo sapevo finita così lo sapevo ragazzi finita finita vabbè ragazzi 4 a 4 è un grotto schifo all'ultimo all'ultimo tempo ma è la vinda proprio è la vinda fa niente ragazzi non fa niente fa niente ragazzi 4 a 4 purtroppo alla fine ci siamo persi tantissimo però non fa niente no cosa succede c'è stavo a stavo tirato però quello non tirava non fa niente non è gioco non è che le partite devo fare è stato fortunato un po' tantissimo e vabbè ci stiamo fa niente ragazzi c'è un bel pollice in su anche per pazzi ho fatto una partita mamma mia ragazzi guardate loro è un bambino di 5 anni che gioca online mamma mia fa quello a tutti ah no si non ci la caccola settimana prossima settimana prossima sempre qua sempre coop da pazzi se pazzi condividetelo ditelo a tutti i vostri amici seguitemi su Instagram e vabbè commentate con qualcosa e da pazzi se pazzi è tutto bella no bella grande